Cinque cose da sapere sul cervello degli adolescenti. Sono Filippo Ongaro, se sei interessato ai temi della crescita personale, dell'aumento della prestazione e del coaching in generale, sei nel posto giusto, iscriviti al canale, clicca sulla campanellina, mi raccomando, così sarai sempre aggiornato. L'adolescenza è un momento molto complesso e se rifletto su come ero io da adolescente, i tagli di capelli, i vestiti che avevo, le idee che avevo in testa, mi viene da un lato un po' di tenerezza, dall'altro dico mamma mia che casino che avevo in testa. Oggi mi ritrovo come genitore ad avere un figlio che sta entrando nell'adolescenza e dunque la vedo sotto un'altra prospettiva ovviamente, oltre all'interesse professionale ed è chiaro che l'adolescenza è un momento di passaggio forse il più complesso della vita di tutti noi ed è complesso non solo per chi la vive, ma anche per noi genitori che la subiamo, quindi è un momento abbastanza difficile nella gestione anche della famiglia se così vogliamo dire. Allora vorrei con questo video suggerirti magari alcune riflessioni, se sei adolescente e hai la pazienza per ascoltare questa cosa ti può aiutare per capirti meglio, se sei genitore più probabile che tu abbia la pazienza, se sei genitore ma non è nemmeno detto possono essere cinque chiavi di lettura per interagire un po' meglio con questi ragazzi. Allora partiamo dal fatto che il passaggio da bambino ad adulto implica moltissimi cambiamenti che sono in larga misura sostenuti dalla biologia e in particolare da una diversa produzione ormonale che prepara l'organismo allo sviluppo completo della sessualità. La sessualità e la capacità riproduttiva sono l'elemento fondamentale su cui si sostiene l'evoluzione della nostra specie, anzi di qualsiasi specie e quindi la forza con cui entrano nella vita del singolo soggetto sono enormi, è una forza totale, è una forza profonda che cambia il fisico, cambia la psiche, cambia i comportamenti. E diciamo uno dei fattori o possiamo anche dire uno dei risultati di tutti questi cambiamenti sostenuti dalla forza della biologia e dalla potenza degli ormoni è la creazione di una nuova identità, ossia di quell'insieme di caratteristiche psichiche, fisiche che definiscono il soggetto. E logicamente la ricerca di un'identità spesso avviene, anzi quasi sempre avviene per un processo di progressivo distacco dall'identità con cui il ragazzo o la ragazza sono stati più a contatto, che è quella dei genitori. Magari si rimargina dopo nella vita. Io lo vedo con me stesso ma probabilmente se sei un genitore te ne sei accorto anche tu, tutto il tentativo adolescenziale di distaccarsi a tutti i costi dai valori, dalle impostazioni della famiglia, a volte poi ci si accorge qualche decade dopo che in fondo non siamo poi diventati così tanto diversi dai nostri genitori. Ma al di là di questo dobbiamo capire che questo processo di distacco non può non avvenire anche in maniera un po' conflittuale, un po' dolorosa e qui il primo punto su cui ti invito a riflettere è vorresti veramente che questo ragazzo diventasse la tua fotocopia in toto, oppure apprezzi di più questo magico percorso creativo per cui diventa una persona diversa da te e bisogna apprezzare ovviamente questa diversità. Ma ci sono cinque caratteristiche che personalmente vorrei condividere con te che per me identificano molto bene l'adolescente. La prima è che il cervello degli adolescenti è un cervello fragile. Gli adolescenti stanno attraversando un guado e non capiscono nemmeno bene che lo stanno attraversando e dove devono arrivare con questo cambiamento. Non lo sanno perché per quanto uno glielo possa spiegare non hanno ancora vissuto quello che verrà, quindi stanno cercando di capire come percorrere questo guado e non vedono l'altro lato. Quindi ci vuole da parte nostra prima di tutto pazienza, fermezza, ma anche molta tenerezza, perché non dimentichiamoci che anche se ora questo ragazzo è alto come te e ha un vocione profondo, fino a qualche mese fa era lì che piangeva in braccio a te. Cioè il tempo è veramente rapido dalla figura dell'ancora bambino, alla figura dell'adolescente. Quindi fermezza sì, ma anche tenerezza e pazienza. Il cervello poi dell'adolescente è conflittuale, è conflittuale per necessità, non per volontà sua. E ripeto, fatti la domanda ogni volta che dici mamma mia ma che pettinatura hai scelto, fatti la domanda se veramente vorresti che questo ragazzo fosse la fotocopia tua. Il conflitto è una necessità, perché per capire meglio se stesso deve allontanarsi da te, deve allontanarsi dalla mamma. Quindi accetta questa conflittualità, controlla da una certa distanza, ma lascia andare però, perché è attraverso questo meccanismo che il ragazzo o la ragazza imparano a capire se stessi il ruolo che hanno nei confronti degli altri. Punto numero 3, sono fortemente influenzabili, ma c'è una grande differenza. Anche i bambini sono fortemente influenzabili, i bambini sono delle spugne, ma sono influenzabili in particolare da chi gli sta attorno sempre, quindi in particolare dalla famiglia. L'adolescente diventa influenzabile molto meno dalla famiglia, da cui si deve distaccare, e per questo diventa molto più influenzabile da chi? Dagli altri, dai suoi pari, dai compagni. E quindi è molto importante che tu sempre con discrezione e distanza capisca chi sono i suoi compagni, capisca con chi vive le sue emozioni, capisca con chi interagisce e chi frequenta, perché quel gruppo di valori, di bisogni, di attitudini, di comportamenti sono quelli che effettivamente il ragazzo assorbirà di più. Punto numero 4, sono in cerca di conferme. Siccome sono pieni di dubbi, siccome sono fragili, cercano conferme, ma non cercano conferme tanto da noi, anche se sporadicamente tornano a chiederci le conferme, le cercano dal gruppo, cercano le conferme dai loro pari, cercano le conferme, il ragazzo cerca la conferma nelle ragazze, le ragazze cercano la conferma nei ragazzi, si studiano, cercano di capire quanto preparati sono al gioco successivo della vita, che anche se con una finestra temporale molto più ampia, prevede ovviamente che uno incontri un partner e appunto come la natura pensa, poi dia vita a sua volta a dei figli e diventi lui o lei genitore. Quindi è un percorso molto complicato. Punto numero 5, non sono lungimiranti, non chiedete a un ragazzo o una ragazza di essere lungimirante, non gliene frega nulla di cosa accadrà quando avrà 80 anni, ahimè. Se volete incidere gentilmente sui comportamenti corretti, dovete prenderli con il beneficio immediato, dovete prenderli con qualcosa che arricchisce le loro conferme, che arricchisce il desiderio di formare una loro identità, perché se utilizzate la classica tecnica del ma te ne pentirai perché un giorno questa cosa poi avrà un effetto negativo, questo è letteralmente entra da un orecchio e esce dall'altra perché l'adolescente è concentrato sull'oggi. Il suo futuro è domani, il suo futuro è quando compie, quando arriva il prossimo compleanno, il suo futuro è il primo bacio con la ragazza o il ragazzo, il suo futuro non è 40, 50, 60 anni, non ci penserà mai. Quindi ricordiamoci questi cinque semplici fattori, fragilità, conflittualità, molto influenzabili, in cerca di conferme, poco orientati al futuro e ricordiamoci anche forse l'ultima cosa la più importante, siamo noi i genitori e siamo noi che dobbiamo capire loro molto di più di quello che loro possono capire noi. Grazie